Nuovamente nel raccordo che li porterà alla partenza dei 2060 metri, 10-3 anni, protagonisti del premio Svizzera, due file al completo in questo avvio fra i nastri, prima fila per l'uno di WB, Antonio Di Nardo, Dorella Caff, Raffaele Forino, Discovery Mail, Emanuele Pettinari, Donerri, Ciro De Cristofaro, Dappi Conqueror, Luigi Cimmino, seconda fila per Dante Clemar, Dario Battistini, Dora Clemar, Romolo Sani, Demetrio Piggio, Gennaro Amitrano, Danao Gal, Salvatore Legittimo, Derby Mail, Marcello Di Nicola. Di Galoppo, Derby Mail, l'avvio sembra convalidato con i più veloci dall'esterno della prima fila Donerri e Dappi Conqueror. L'errore per il numero 9 di Danao Gal, ritmo modesto con Donerri che comanda davanti a Demetrio Piggio, partita bene dalla seconda fila e ora si affaccia sul leader perché l'andatura è modesta. Poi c'è Discovery Mail che ha all'esterno Dappi Conqueror, Demetrio Piggio ha tolto il comando a Donerri, l'andatura però si mantiene modesta, i 600 iniziali per quanto con avvio da fermo sono in 48,6. Con Demetrio Piggio la nuova leader davanti a Donerri, Discovery Mail, all'esterno Dappi Conqueror, l'errore in terza ruota da parte di Danao Gal. Terzo in corda sempre Discovery Mail, a precedere WB con a largo Dante Clemar che ha in scia la compagna di colori Dora Clemar e a chiudere Derby Mail e Dorella Caff. L'andatura continua a essere decisamente blanda da parte di Demetrio Piggio e Gennaro Amitrano. Addirittura in 1'37'8, i primi 1'2 dal gruppo. Si muove in terza ruota Dante Clemar. Prova a seguirlo Dora Clemar, ancora più a largo quarta ruota per Dorella Caff che però arriva dall'ultima posizione ma soprattutto si scontra adesso con la decisa accelerazione della leader. Demetrio Piggio accelera e si mantiene in vantaggio su Donerri. Dante Clemar in terza ruota, Discovery Mail che ha in fuori Dora Clemar, poi ancora WB. La retta d'arrivo vedete Demetrio P in vantaggio su Donerri che anticipa Dante Clemar, poi Dora Clemar, poi Discovery Mail. Demetrio P in vantaggio su Dante Clemar che supera Donerri, si unisce alla lotta Dora Clemar. Demetrio P ancora in vantaggio su Dante Clemar. Nel finale Demetrio P che si mantiene in vantaggio e vince davanti a Dante Clemar mentre lungo la corda trova il varco, probabilmente Discovery Mail, per sottrarre la terza piazza a Donerri. Ma andiamo a rivedere il tutto con il replay 2'38'2 sul mio cronometro, significa media intorno all'1.19 abbondante con gli ultimi 600 metri abbastanza veloci, il mezzo miglio finale in poco più di un minuto, ma prima era andata pianissimo. Demetrio P con Gennaro Amitrano che vince per il training di Raffaele Chiaro, i colori del signor Francesco d'Anna per la figlia di Mago d'Amore. Vedete che secondo è Dante Clemar mentre all'interno Donerri e Dora Clemar vengono battuti per il terzo posto, se non vado errato, dal numero 3 di Discovery Mail, ma se scorrono le immagini sono più precise, dovrebbe trattarsi di Discovery Mail e quindi l'arrivo dovrebbe essere 863 per la terza di Capannella. È tutto, linea allo studio. Grazie a tutti.